Quarto gol stagionale, Rafa, questo è uno di quelli più importanti perché la partita era complicata. Sì, era importante cominciare bene. Il gol è fondamentale per aiutare la mia squadra, ma per il secondo tempo dobbiamo cercare il terzo gol per stare più tranquilli e partire. Quando parti da sinistra ti senti a casa? Sì, penso che sia il mio ruolo, che possa fare la differenza per la mia squadra, ma la cosa più importante è che stiamo vincendo e come ho detto anteriormente dobbiamo cercare il terzo gol per stare più tranquilli. Grazie Rafa.